ciao guerrieri di luce io sono valerio e nella puntata di oggi vorrei parlarvi del significato spirituale del cerchio il cerchio che ha una figura senza angoli e spigoli tra figure rappresenta l'armonia a 360 gradi è da sempre considerato il simbolo dello spirito e dell'immaterialità dell'anima rappresenta anche la dimensione spirituale e intellettuale non avendo né un inizio né una fine è il simbolo perfetto per rappresentare il ciclo perenne della vita dell'eternità e della perfezione il cerchio è il luogo sacro dove si concentrano tutte le energie sia queste materiali che spirituali in antichità il cerchio con un punto all'interno era la raffigurazione sacra del sole o della divinità il cerchio è anche il simbolo del principio femminile materno della nostra madre terra il cerchio è l'assoluto l'immortalità l'eterno ritorno delle vite il cerchio è per molte culture un simbolo di protezione un confine magico sacro invalicabile un luogo sicuro dove praticare magia e rituali magici unisce la semplicità con la perfezione il vuoto con il pieno in questa figura geometrica l'invisibile e il visibile sono strettamente collegati tra loro mi raccomando lasciate un like al video iscrivetevi al canale commentate il video fatemi sapere se conoscevate il significato di questa forma geometrica se conoscete altri significati legati al cerchio e ovviamente se non l'avete ancora fatto vi consiglio di andare a scoprire i nostri siti internet che sono www.giosuestavros.it e www.ilviaggiosciamanico.it dove all'interno potrete trovare tutto ciò di cui ci occupiamo quindi tutti i nostri consulti i nostri videocorsi i nostri eventi e tanto altro io vi saluto nel mio modo che ormai sapete benissimo quale è mandandovi un grande bacio un grande abbraccio e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao 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 ciao